La scelta Teresa Ciglia e Salvatore Di Carlo, coppia che convolerà a nozze il prossimo settembre. Ma Venezia è anche la città che Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, oggi sposati e con un figlio, hanno scelto come primo viaggio insieme, con telecamere di uomini e donne al seguito. E c'è di più. La mamma di Andrea Damante su Instagram si lascia scappare troppi like nelle foto del figlio che lo ritraggono con la bella corteggiatrice milanese. Che sia un presagio. A breve sapremo quale sarà la scelta. Manca veramente poco poco.